Allora, noi vediamo tutto noi, tutta l'immagine e cosa, e rivestiamo tutto a... Chiaramente noi facciamo... Grazie mille. E qui ho rispolverato il mio slogan della provincia del turismo e sport, montagna in portata di mare, perché l'ultimamente il territorio nostro, che è una peculiarità molto bella, che è quella del mare, che poi spiegherà a Sirelli la validità e anche il lusso che c'è da... La federazione, oggi mi ha appena detto, c'è stata una chicca, e la storia di far vivere, una parola speciale, che cos'è, è molto bello, è anche questo, anche il fatto di abicinare il bambino e la partenza dal comune di Montesimo. Poi lascio la parola agli altri, dando in aiuto e supporto per far sì che questa gara possa ritornare, casomai, anche diventare un discorso a blusso, e a Montesimo, a partenza da Montesimo, a rappresentare a blusso. La presentazione di questo evento si è dimostrato un vero stalker perché ha creduto fortemente in questo evento e continua a crederci che eventi di questo genere, che hanno una rilevanza nazionale, possono drenare sul territorio quelle economie e necessitazioni a voluto dare. Su questa passaria si va a inserire anche questa manifestazione, che mi auguro è che questa non sia un'iniziativa isolata. Vorrei che si radicasse sul territorio di Montesilvano, qua in Apruzzo, nella provincia dei primi risultati. Sono contento che questa iniziativa sia stata sposata dalla provincia di Lazzara, con il suo presidente Zarfiri. Come già ha detto lui, ha detto anche il sindaco Maragno, lo sport turistico è molto molto importante per noi. Si affaccia nella porta dell'area Vestina, che si è in Montesilvano, è lo sfogo naturale dell'area Vestina. Anche tutti gli accompagnatori sono stimati circa 700 persone, quindi lo strumento che proviene sono persone che non saranno mai venute sul nostro territorio, oppure conoscono in maniera superficiale i territori dell'Aquilano e tutto riusciremo probabilmente anche a mettere ad accadere la disciplina del motorello. Tanto, infatti, tutti i miei ringraziamenti di essere qui e di fare questa gara, vorrei velocemente spiegare com'è questa disciplina e come stiamo portando una navigazione. Cioè, tutta la gara si svolge con un robot e questo ci permette di salvaguardare moltissimo l'ambiente, salvare l'ambiente e la sicurezza dei piloti. E qui abbiamo due grandi novità, appunto, che sono quelli. Piloti fortissimi, che l'Italia stava davanti alla televisione per aspettare l'età per la macchina. L'esempio nostro dell'Italia che ha... Di Montesilvano ci ospiti per questo evento. Noi siamo nati nel 2001, 2000-2001, nel 2005, che organizziamo gare di alto livello. Abbiamo iniziato con campionati, siamo in questa specialità. Volevo ringraziare Aurelio Cilli, che grazie a lui, che con la sua testa ardagine e con la sua... La provincia di Pescara, giustamente è un'area molto conosciuta e può essere un trampolino di lancio per i nostri sforzi. È medico della Federazione Italiana Motociclismo. Mi sono occupato dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria per questa realtà. In realtà le gare di enduro hanno delle problematiche sanitarie abbastanza serie. Quelle dei motorelli, diciamo, sono accentuate per la distanza. È un legno che sta approfondendo il Consiglio regionale, quindi agendo di Sponda, sia in Polighe che sul territorio, tenteremo di portare i risultati sulla provincia di Pescara. E non soltanto, evidentemente, visto che ci dovremo occupare di una... Si può fare tantissimo. E il ringraziamento che ha organizzato questa iniziativa, questo evento di natura nazionale e internazionale, è non gastronomico, è un indotto conseguenziale a livello economico. che non può che far piacere o che rendere orgogliosi l'iniziativa con la volontà da parte di tutti di rendere, come diceva Francesco, il signor Dionte Silvano, di strutturare questo tipo di eventi, di rendere, come sempre dico io, alzando l'asticella del tipo di eventi a livello anche qualitativo, perché quando si alza l'asticella in termini di qualità ci dà una ricaduta positiva a tutto il territorio, a tutti i livelli. Quindi il sostegno della regione ci sarà, ci sarà fortemente, conosco anche la parte medica, perché effettivamente è un collega, quindi so con quale cura verrà anche attenzionato. Il messaggio che abbiamo lanciato in tarpa elettorale, è un abruzzo unico che va in un'unica direzione, che parla la stessa lingua e che sarà più forte.